Vogliono fare l'ingresso da star sicuramente, sono solo quattro merde, quattro merde, ma dobbiamo dimostrarglielo noi, dobbiamo dimostrarglielo, che qua non si passa, qua non si passa. Vogliono fare l'ingresso da star sicuramente, sono solo quattro merde, che qua non si passa, qua non si passa, qua non si passa, qua non si passa. Vogliono fare l'ingresso da star sicuramente, sono solo quattro merde, che qua non si passa, 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 qua Ho 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 Oh, eh, oh, eh, si sta, si sta, oh, eh Vigo, salta, volo, nese, 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 eh Oh, 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 vigo, salta, volo, nese, eh Oh, si non puoi dobbio electronic, oh, si non puoi Oh, si non puoi create, oh, si non puoi creato No puoi volare, no puoi cheารanno Allora, si non puoi carretereranno Allora, si non puoi cheors. Allora, il parole, guiterò Grazie a tutti. Grazie a tutti.